C'è il Fabio intasato, venga Fumara, c'è il Fabio intasato, va bene fare il salto, è venuto con più spinta col Fabio. Ricordiamo che abbiamo il titolo lì, le patatine fritte di Fuit, le salsicce di Marani e anche la sua. Fiscia, vuoi la papa mobile? È bella. Lui è impossibile a quel ette della lana niva, li diamo. Questa piena d'acqua, base d'asta 23.000 euro. Oggi spanchiamo! Si è ancora un poveri! Signori e signori, questa è la gara a Proza. Nonna edizione, sono nove anni che rompiamo le balle. Quindi siamo ancora un po' pratici. Iniziani offentiamo un qualche veicolo. Siamo solo fermati 422 oggi. La prima edizione c'erano 45 G, ma adesso ci avevano soltanto una decina di volte in fiume. Sì, caglietti! Sì, mica male! Duecento sono persi nelle colline. Non sanno neanche dove sono. L'ultima è la novità, Monte Carvano, 12 ore fa. Sì, caglietti! Sì, caglietti! Sì, caglietti! Sì, caglietti! Sì, caglietti!